ed ecco pronte le bugie ravioli di carnevale con un ripieno super goloso di tanta marmellata questa è una ricetta semplicissima si preparano con soli tre ingredienti potete farci rico gli ingredienti che più vi piacciono a vostra scelta siete pronti per la ricetta consiglio di provarvi quanto prima sono sicura venenna moderete al primo assaggio come sempre la ricetta completa nel mio canale youtube tutti a tavola con uccia